un altro che passa davanti si passa davanti come l'aria aria cos'è non si apre più no? no ieri sera provo a tirare se sono rotto le vite ah bravo l'ape l'hai sistemata? ecco vado a provarla 13 ciao ragazzi benvenuti all'aggiornamento delle 19 e allora non so se avete visto il padre è appena tornato non ve l'ho detto ma è appena tornato dalle vacanze a tenerife è andato insomma al caldo è tornato ieri sera verso le 9 circa e niente è venuto qui al freddo ieri sera eppure c'era anche la nebbia e va bene dai magari magari potrei inserire in qualche video del canale principale qualche clip che hanno registrato la sempre a tenerife ma buon dai così vedete anche il padre in vacanza buona serata a tutti